Lo scorso 11 novembre a Vigliano Pialese una donna del 45 aveva denunciato presso la stazione dei Carabinieri di essere stata vittima di un furto di 65 euro dalla propria borsa. La denunciante riferiva anche che mentre svolgeva volontariamente le pulizie presso la chiesa di Santa Maria Assunta veniva avvicinata da uno sconosciuto che col protesto di dover incontrare il parco si introduceva nella sacristia dove la donna aveva proprio lasciato incostudita la sua borsa. Al suo ritorno a casa si accorgeva dell'ammanco del denaro. Oggi i militari della sezione operativa del Norma della compagnia Carabinieri di Biella con il personale della stazione di Vigliano a conclusione di accertamenti hanno denunciato un uomo del 68 censurato per reati contro il patrimonio poiché ha ritenuto responsabile di furto aggravato. Le indagini condotte dai militari sviluppate anche attraverso un esame delle immagini del sistema di videosorveglianza hanno infatti consentito di acquisire importanti risultati ed individuare l'uomo come autore del furto avvenuto all'interno della chiesa di Vigliano Biellese.